Il convegno si chiama dall'odio e il risentimento verso la speranza e la fiducia, ma non è un passaggio automatico, è un passaggio che va costruito con idonee competenze che permettono a depotenziare gli elementi che costruiscono sconforto e non relazione e mettere forza e vigore sui piccoli virgulti che possono costruire una foresta di legami. Gli psicologi sono gli unici che possono fare qualcosa circa gli stereotipi e i pregiudizi perché questi sono meccanismi psicologici, non sono dati di fatto storici e allora gli psicologi che alla loro continua opera di svelamento devono far capire alle persone anche su piani emotivi, emozionali più profondi l'ingiustizia di queste cose e l'errore fallace perché uno stereotipo o un pregiudizio non sono una realtà oggettiva.